Mi chiamo Paolo Bottero e insieme ad Alessia Bruno, che è la mia compagna, abbiamo creato il saponificio Rose Caprioli a Pietra Porzio. Produciamo cosmetici partendo dall'estrazione dei principi attivi delle piante, che siano distillazione o macerati glicerici. Utilizziamo prevalentemente piante autoctone, coltiviamo oppure le raccogliamo spontanee, stelle alpine, arnica, calendula, lavanda spontanea. Il nostro call business è il sapone di Marsiglia, per noi è l'antico sapone di montagna, perché utilizziamo lo stesso processo del sapone di Marsiglia per ottenere un sapone di alta qualità, ma lo aromatizziamo con i nostri prodotti, quindi con i nostri macerati o i nostri estratti. Creiamo una serie di cosmetici, tra cui saponi, creme e tutti gli altri prodotti naturali utili alla nostra pelle. Lo facciamo perché è stato un sogno che si è realizzato, è stato il voler riprendere alcune tradizioni delle nostre valli in una chiave moderna. Io sono il primo metro savonier italiano e oggi posso dire con orgoglio di fabbricare la stessa qualità del sapone di Marsiglia, ma aromatizzandolo con le piante del mio territorio.